E' un controllo. Io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. E' un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini. Capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo. Ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. non c'è di che. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra! Le 76 sentinelle! Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Si sbagli. Sulla morte della squadra? Non posso immaginare dei turisti che uccidono tutta la squadra. E se fosse vero, forse sono i militari che tornano. Non fare l'idiota. Ai militari non frega un cazzo di questo posto. Saranno dei turisti che hanno avuto culo. Li troveremo. Li troviamo sempre. Spero sia vero. Sì, vuole che non faccio. Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 Ok, lo faccio Ok, lo faccio Ok, lo faccio Bella pensata Aiutami Grazie a tutti 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 Sì. Beh, almeno hanno finalmente ucciso quei due. Merda. Pesa il porto, basta! Oh cavolo... Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Joel, c'è un tizio al primo piano. Lo vedi? Grazie a tutti. 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 qui. a tutti. a tutti. a tutti.